può sembrare quasi assurdo ma il meglio nel senso che io ricordo anche la battuta del dottor timpano quando mi disse adesso 55 anni sei tu che invidi gli altri uomini perché non hanno bisogno della profesi quando avrai 60 anni saranno gli altri uomini che invidieranno te perché non avrai più nessun problema e devo dire che è così ma è così anche prima di 60 anni perché gli uomini che mi stanno ascoltando sanno benissimo che l'ansia da prestazione ha colpito tutti gli uomini in più di un'occasione la protesi annulla completamente questo questo concetto e quindi permette anche un piacere più più intenso un piacere che è scevro dall'ansia di dire oddio quando finisce l'effetto del farmaco o quando finisce oppure la mia testa quando è che mi porta a non poter portare a termine un rapporto quindi l'aspetto della protesi è miracoloso nel senso che nasce porta una vita sessuale diversa all'uomo e per certi versi più piacevole più tranquilla più serena ovviamente questi problemi ragazzi di 20 25 anni possono non sapere di cosa stiamo parlando anche se non è detto ma dopo una certa età c'era la famosa barzelletta il problema non è se la donna ti dice no il problema è se la donna ti dice sì ecco la protesi devo dire che l'ha cambiata in meglio anche proprio da un punto di vista sessuale i primi tempi e tu stesso devi prendere manualità e abitudine nella gestione della protesi quindi direi che i primi quattro e cinque mesi ebbene che tu ci prendi la tua manualità e impari ad usarla posso dire che secondo me dopo cinque sei mesi che imparo ad usare la protesi è molto probabile che la tua parte nemmeno se racconta perché impari a gestirla senza problemi e la tua partner non può non accorgere oppure può diventare un qualcosa di divertente di un gioco può diventare un qualcosa di stimolante scarzoso tutto sommato ma se vuoi non farlo sapere assicuro tutti gli uomini che non non se ne accorgono una cosa molto importante della trifasica idraulica gonfiabile chiamiamola come vogliamo e che nel discorso della vita sociale è la cosa più naturale che c'è io tranquillamente in palestra nello spogliatoio nessuno si accorge che tu hai una protesi perché non è assolutamente visibile in nessun modo quindi questo rispetto alle altri tipi di protesi è un enorme vantaggio che non c'è paragone non c'è assolutamente paragone diciamo come detto prima quelli 10 15 20 giorni di dolore fortissimo vengono assolutamente annullati e azzerati dai vantaggi della protesi rispetto a qualunque altra tipologia di di aiuto all'erezione sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista psicologica